Federico Oneto è country manager in Italia di Sweetin. Potrebbe descriverci la struttura di Sweetin e qual è l'obiettivo dell'organizzazione della compagnia in Italia? Sweetin è una compagnia franco-israeliana attiva nel mondo dell'ospitalità e ha una particolarità. Noi prendiamo in affitto gli appartamenti, ho un team di designer che li risistema completamente. La caratteristica è che ogni appartamento ha un suo design particolare, locati tutti in zone molto centrali della città. Hanno la caratteristica di essere molto belli, spaziosi di design e essendo presenti in varie città d'Europa l'altra caratteristica distintiva di Sweetin è quella di poter usufruire degli stessi servizi, della stessa tipologia e classe in livello degli appartamenti in ognuna delle 14 città d'Europa e due in Israele dove siamo presenti. Ci sono potenzialità in Italia? Sì, enormi. Noi attualmente siamo presenti su Roma e su Milano. Roma per l'obiettà della centralità del turismo. Milano perché è una città che sta letteralmente esplodendo. L'obiettivo 2019 di Sweetin è quello di concentrarsi preferibilmente su Milano dove contiamo di più che raddoppiare il numero di appartamenti e tentiamo anche di più che raddoppiare il fatturato e il numero di turisti presenti. Prossime aperture in altre piazze italiane e anche le cosiddette secondary cities. C'è potenzialità anche lì? Allora, grossissime potenzialità anche lì. Al momento non posso dire niente ma ci saranno grosse sorprese nel 2019 per Sweetin perché l'Italia è uno dei mercati assolutamente più interessanti dal punto di vista turistico. E se dovessi chiedere una vostra particolarità in cosa differenzia il modello di business di Sweetin rispetto ad altre società che si occupano di affitti brevi, che cosa mi direbbe? Allora, due caratteristiche principali. Case di design e prenotazioni hustle free. Quindi tutte le case sono state disegnate da designer, addirittura l'anno scorso per il salone del mobile abbiamo fatto un concorso vinto da due designer israeliani che hanno disegnato loro uno dei nostri appartamenti e secondo hustle free è una società molto tecnologica per cui facilità di prenotazione e soprattutto la certezza che gli appartamenti siano tutti di un livello medio-alto in qualsiasi parte del mondo lei vada e usufruisce dei nostri servizi. Grazie, da Guida Viaggi Web TV è tutto, buon lavoro. Grazie.